Salve, sono Alessio della concessionaria Flycamper e sono a presentarvi un nostro veicolo usato della casa costruttrice Rimor. Il modello è Superbrigg 697 Seiler montato su Ford 2004 turbodiesel 125 cavalli. Il veicolo è un semi integrale con letta da francese e ampia zona giorno. Ha 4 posti letto ed è omologato 4 posti per viaggiare. L'anno di immatricolazione è 2002 ed ha percorso 68.000 km. Come accessori ha portabici, porta con zanzariera, piedini di stazionamento posteriori, ammortizzatori, casse audio posteriori, slitta tv, antenna tv, tenda separazione giorno-notte, sedili, passeggero girevoli, pannello solare e veranda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.